I stori di Abilmente Roma quest'anno saranno dedicati al Bosco e insieme al Grande Albero delle Meraliglie che ci ha ispirato Cristina Catenacci, io e Barbara Lump abbiamo deciso di fare un omaggio al re del Bosco delle Meraliglie, un illustratore fantastico, Tony Wolff. Ha deciso di realizzare uno dei personaggi più enigmatici e brontoloni del Bosco delle Meraliglie di Tony Wolff, io invece ho dedicato un intero laboratorio che si intitola Cartoline dal Bosco in lana fiaba. Rinfiera dal 26 al 29 settembre per realizzare la tua cartolina dal Bosco ispirata all'illustrazione di Tony Wolff. Grazie a tutti.